venite a vedere perché questa è una cosa che rimanrete scioccati da qua ecco qui guardate che cosa fantastica la Valle dell'Eco si chiama sta pure un cartello là perché fate le fotografie stiamo costruendo il più grande teatro del sud Italia lavorando lavorando ci siamo accorti che qui ci crea un eco spettacolare cioè tu qualsiasi nome dice un nome una cosa ti ritorna in maniera proprio anche la cadenza ecco che ti sia Valle dell'Eco ti faccio un esempio che forse capiamo bene luigi guigi 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 marco 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 guarda Grazie a tutti.